Una buona notizia per i cittadini battipagliesi. Con la tariffa sui rifiuti ci saranno 300.000 euro di risparmio. Infatti, secondo le stime fatte, le tariffe per il conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti a battipaglia sono concrete ed apporteranno dei benefici. Battipaglia, quindi, dopo diversi anni, potrà finalmente portare i sacchetti dell'umido nell'impianto di compostaggio, evitando di affidarsi a un privato, come è accaduto negli ultimi sette anni, quando barcare le soglie dell'impianto della discordia, quello che insiste sul territorio ebolitano, pur essendo più vicini al centro urbano battipagliese, erano gli operai di Nappi, notazienda che tratta rifiuti in città. Il comune di Battipaglia non ne avrà più bisogno a seguito del contratto sottoscritto con l'ente d'ambito Salerno che nei mesi scorsi aveva affidato in ausa la gestione del sito di compostaggio ed ecoambiente. Tradotto significa che per le casse dell'ente battipagliese il risparmio sarà di circa 48 euro a tonnellata sulla frazione organica e 35 euro a tonnellata per la frazione biodegradabile. Per un risparmio totale hanno stimato in oltre 300.000 euro. A questi si devono aggiungere anche 18.000 euro di ristori in quanto comune prossimo al sito di compostaggio. Per il comune di Battipaglia, che fino ad ora ha subito solo disagi per la presenza dell'impianto ai confini nel proprio territorio, si apre ora una stagione di notevole opportunità. A conti fatti, come è stato anche ribadito da Vincenzo Petrosino, presidente di Ecoambiente S.P.A., l'amministrazione di Battipaglia risparmierà centinaia di migliaia di euro all'anno rispetto alle spese sostenute nel 2021 per smaltire la frazione organica. Un risultato ragguardevole per le casse comunali, il reso possibile dal fatto che Ecoambiente applica una tariffa unica di 135 euro a tonnellata, fatta salva quella agevolata prevista per il comune di Eboli che ospita l'impianto. Adesso tutti auspicano che in tempi brevi si possa passare dalle parole ai fatti concreti.